Questa volta dobbiamo perdere qualche minuto all'inizio per dedicare qualche nostro pensiero a un somaro politico che ha ripreso a ragliare. Ci saremmo risparmiati volentieri questa perdita di tempo, ma converrà pure dire qualcosa. Mi riferisco ad alcuni commenti che sono stati fatti dopo la festa dei tifosi del Napoli per la vittoria della Coppa Italia da parte degli Azzurri. Sono commenti che hanno portato alla luce una propensione sotterranea, incancellabile, allo sciacallaggio, perfino al razzismo nei confronti di Napoli, della Campania, del Sud, che pare difficile da estirpare. Pensate, verso mezzanotte ragazzi, tifosi del Napoli hanno fatto una manifestazione di gioia per la vittoria della Coppa Italia, un episodio che sarebbe successo nella stessa maniera in tutta Italia e in tutto il mondo. Sarebbe successa la stessa cosa. Voglio ricordare che in altre città del paese, penso a Torino, in occasione di una partita della Juve nella Champions, ci sono stati morti e feriti in piazza. A Milano, se avesse vinto l'Inter, avremmo avuto l'ira di Dio. Senza nessuna vittoria abbiamo registrato, lo hanno denunciato le autorità milanesi. Assembramenti ai navigli, fenomeni di movida scapigliata. Nel Veneto, a Vicenza, mi sono arrivate immagini della movida a Vicenza, per la quale nessuno ha chiesto al governatore del Veneto che pensasse, che facesse. Sappiamo tutti quanti, almeno tutte le persone che hanno buon senso, che quello che è successo sarebbe successo dovunque, per una vittoria sportiva significativa. Ma, siccome è capitato a Napoli l'episodio, il cafone ha ritenuto di fare dei commenti. Bene, io credo che quel cafone politico abbia dimostrato di essere davvero tre volte, somaro, non una volta sola. Primo, perché se uno organizza il 2 giugno a Roma una manifestazione in violazione di tutte le norme anti-assembramento, ed è non un giovane tifoso, ma un esponente politico segretario di un partito, se organizza quella manifestazione in totale disprezzo delle norme di sicurezza, insieme con la vispa Teresa, e poi si permette di aprire bocca, vuol dire che questo esponente politico ha la faccia come il suo fondo schiena, peraltro usurato. Secondo motivo di ciucciaria, direbbe Edoardo De Filippo, si fa un assembramento notturno e l'equino domanda al presidente della regione che dici. È giusto il caso di ricordare a questo somaro geneticamente puro che è l'obbligo di garantire il rispetto delle norme nazionali e riguarda il Ministero dell'Interno e il Prefetto, il Presidente della regione. Non c'entra niente. Non c'entra niente. Infine, siamo di fronte davvero ad atti di volgare sciacallaggio. Perché se noi avessimo adottato lo stesso criterio di strumentalità, noi, Regione Campania, una regione che ha dato una prova, credo, straordinaria e riconosciuta da tutti di rigore e di capacità amministrativa e organizzativa, se avessimo adottato lo stesso atteggiamento avremmo dovuto dire parole di fuoco nei confronti di altre realtà del Nord, di altri sistemi sanitari nei quali si sono registrati morti a migliaia. La regione Campania ha avuto come casi totali 4.615 casi di Covid. La regione che ha retto meglio al Nord, cioè il Veneto, ha avuto il quadruplo di contagi. La Lombardia ha avuto 20 volte più di contagi rispetto alla Campania. Per quanto riguarda le persone decedute, sempre il Veneto ha avuto 5 volte più deceduti rispetto alla Campania. La Lombardia 40 volte in più di deceduti rispetto alla Campania. Emilia e Piemonte si collocano a metà strada. Se fossimo stati sciacalli sulla base di questi dati avremmo scatenato una campagna di aggressione mediatica nei confronti di altre realtà del Paese. Ma noi, diversamente dal Neandertal, siamo persone civili. E ribadiamo la nostra solidarietà ai nostri concittadini di altre parti d'Italia che hanno sofferto, che hanno affrontato tragedie inimmaginabili, guardando con spirito di coesione nazionale alle vicende dell'epidemia. E ricordando, però, a qualcuno che ha la memoria corta, che la Campania è stata la regione più rigorosa nel chiudere tutto quando c'erano le prime avvisaglie. Abbiamo avuto il coraggio di chiudere tutto quindici giorni prima rispetto alle decisioni prese dal governo nazionale o rispetto ad altre regioni. Quando noi chiudevamo tutto in altre parti d'Italia si continuava a ballare e a bere. Allora,